La cronaca giudiziaria del PM Simone Marcon della Procura della Repubblica di Belluno ha chiesto il rinvio a giudizio del datore di lavoro di Paolo Marcon, il 59enne di Cosaldo, che venne travolto e ucciso nei boschi della Gordino in località Tre Ponti durante un intervento di recupero dei tronchi con una teleferica. L'ipotesi di accusa è quella di omicidio colposo e l'udienza preliminare dinanzi al GIP del Tribunale di Belluno è stata fissata per il prossimo 13 dicembre. Secondo l'accusa del datore di lavoro, un 57enne del Primiero non mise in atto le procedure per la sicurezza dei lavoratori e non diede alla vittima una formazione sufficiente e adeguata. Paolo Marcon aveva iniziato a lavorare per quella ditta da pochi giorni, peraltro senza regolare contratto.